Ciao ragazzi, oggi vi mostro che cosa mi ha inviato l'azienda Trevisan. Allora partiamo da questo pacco di trifoglie al cacao, poi qui abbiamo il riso medio integrale nero biologico e qui invece il riso basmati bianco bio, ci sono due confezioni per ognuno, poi abbiamo qua il succo di mela biologico, di nuovo il riso basmati bio, poi qui abbiamo la bevanda di soia biologica, poi partiamo da questi due che sono biscotti tutta frutta biologici senza zuccheri aggiunti e poi qui abbiamo i biscotti di avena senza glutine con vertigli rossi e tutto questo è il pacco da parte dell'azienda Trevisan che io ringrazio per avermi gentilmente fornito questi prodotti e assieme comunque li proveremo, grazie ancora e non vedo l'ora di gustarli.